ultimo di sei figli, fin da piccolo si è avvicinato al mondo dello spettacolo, facendo la comparsa al teatro Massimo Bellini di Catania, nella sua pluridecennale carriera di attore. Leo Gullotta ha recitato al cinema e in teatro in commedia e lavori drammatici e ha partecipato a numerosi sceneggiati e varietà per la televisione. Ha svolto inoltre l'attività di doppiatore, prestando la sua voce all'attore Gio Pesci. Maturato un periodo di rodaggio sui palcoscenici del Campanella, del Carlino, del Puff, la Chasson, a partire dagli anni Ottanta ha acquisito una crescente popolarità, non soltanto televisiva, come attore della Compagnia del Bagaglino, per la quale ha realizzato innumerevoli parodie. Prima fra tutte quella della signora Leonida. Nel marzo 1995 dichiara la propria omosessualità al settimanale Rome Gay. Nel marzo 2012 denuncia dalle pagine del quotidiano Leggo di essersi visto negare il ruolo di Padre Pino Puglisi nell'omonima serie televisiva Rai in quanto omosessuale. Per il dissenso di un alto dirigente dell'azienda. Nel 2010 ha festeggiato i 50 anni di attività artistica. Nel 2011 ha prodotto insieme a Fabio Grossi il film documentario in arte Lilia Silvi Ideato e diretto da Mimmo Verdesca che racconta la vita e la carriera dell'ultima diva del Cinema Day. Telefoni Bianchi, Lilia Silvi, il documentario ha vinto il nastro d'argento 2012 per il miglior documentario dedicato al cinema e ha partecipato con grande successo alla via edizione del Festival internazionale del film di Roma. Al BFN DST 2012 e al trentesimo Val d'Arno Cinema Fedic dove ha vinto il premio della giuria Giglio. Fiorentino d'argento ha raccontato la sua vita nell'autobiografia Mille fili d'erba. Ovvero, come vivere felici anche su questa terra. 1998, di Renzo Editore, nel 2013 ha prodotto insieme a Grossi, il quale ne ha diretto pure la regia. Il docufilm Un sogno in Sicilia, girato a Catania, che affronta, attraverso l'esperienza di quattro giovani attori impegnati nell'allestimento shakespeariano, in scena nel 2012 al Teatro Stabile di Catania. L'attuale situazione artistico-occupazionale giovanile